Allora, l'argomento di questa sera è frutta e verdura. Chiaramente sono degli elementi presenti, giustamente, presenti a ragione nelle vostre alimentazioni, però spesso vengono fuori delle domande in merito alla quantità di frutta, alla quantità di verdura che è giusto introdurre all'interno del proprio piano alimentare e soprattutto anche al tipo di frutta e al tipo di verdura. Allora, tanto per cominciare, perché è sicuramente importante introdurre frutta e verdura all'interno del proprio piano alimentare? Allora, ci sono due motivi fondamentali. Il primo motivo è che sicuramente sia frutta che verdura sono ottimi per apportare all'organismo vitamine e sale minerali. Quindi senza bisogno di prendere integratori, compresse, compressine, liquidini strani, quindi diciamo che già assumendo frutta e verdura all'interno del vostro piano alimentare sicuramente potete fare un'ottima incetta di vitamine e sale minerali. Quindi questo è sicuramente un aspetto importante da sottolineare. In più, il secondo aspetto che a mio avviso, che io sono una persona molto concreta e che va a guardare subito all'aspetto prestazionale, è il fatto che sia la frutta che la verdura sono degli alimenti che hanno una densità calorica estremamente bassa. Molto spesso mi avete sentito usare questo termine, densità calorica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in relazione al loro volume hanno delle calorie estremamente basse. Vi faccio un esempio. Paragonate una mela a un hamburger del McDonald's, a parità di volume, chiaramente la mela ha tantissime, ma tantissime calorie in meno rispetto all'hamburger del McDonald's. E questo vi deve far capire che dal punto di vista dell'aspetto sazietà, mangiare tanto volume di cibo che contiene poche calorie, sicuramente in una fase di restrizione calorica è importante. Ha sicuramente la sua rilevanza. Quindi l'aspetto che frutta e verdura contengano poche calorie in relazione al loro volume è importante. Potete permettere di mangiare tanta frutta o tanta verdura e alla fine della giornata il vostro introdotto calorico risulterà comunque contenuto. Andiamo a valutare quale tipo di frutta e quale tipo di verdura. Chiaramente bisogna contestualizzare la persona, quindi bisogna capire su che soggetto ci andiamo a riferire. Per esempio, la frutta è tutta uguale? No, la frutta non è tutta uguale, ma nel contesto di due o tre frutti al giorno sicuramente non c'è una grande differenza. Molto spesso mi viene detto, ma io devo pesare la frutta perché c'è scritto 100 grammi? Perché no, la frutta quando si dice un frutto è un frutto. Che sia una mela, che sia una pera, che sia una banana, ragazzi non dovete stare a sporzionare la mela o la banana. Cioè un frutto è sempre un frutto. Poi è chiaro se si parla di un albicocco o di una fragola, sicuramente un frutto non è una fragola, ma saranno 5, 6, 7 fragole, ok? È chiaro che il buon senso in questo caso deve assolutamente prevalere. L'unica raccomandazione, proprio per darvi un consiglio specifico, quando scegliete la frutta magari cercate di evitare frutti che magari vi possano bloccare l'intestino. Per esempio la banana è uno di quei frutti che se si esagera poi purtroppo ci fa tappo e dopo non andate più in bagno. Cioè quando avete mangiato una banana al giorno direi che è più che sufficiente. Mentre invece potete sicuramente prediligere se avete il problema opposto, cioè se non andate mai in bagno potete prediligere dei frutti che hanno una particolare affinità a questo, tipo le prugne, tipo le mele. Chi ha difficoltà ad andare in bagno, avere un'assunzione costante di frutta all'interno, insieme alla verdura ovviamente, all'interno del proprio piano alimentare è un qualcosa in più che lo può aiutare ad andare in bagno. Molte donne, appunto, voi donne spesso avete questo tipo di problema. Se smettete di mangiare frutta e verdura si accentua di brutto. Quindi abbiamo visto che la frutta più o meno può essere considerata e anche per quanto riguarda la verdura non c'è l'esigenza di essere così fiscali nella scelta della verdura. Allora, spesso mi viene detto ma il pomodoro è verdura, ad esempio. Andiamo a parlare di questo aspetto che è interessante. Allora, il pomodoro per nomenclatura è un frutto, però spesso viene considerato come verdura. È chiaro che il pomodoro ha una concentrazione di zuccheri superiore, chiaramente, rispetto a altre tipologie di verdura, rispetto a una zucchina, rispetto a il cavolfiore e quant'altro. Non c'è da mangiare 10 kg di pomodori, ragazzi, ma se mangiamo un paio di pomodori sicuramente non sarà quel quantitativo di zuccheri che va a sballare la giornata. Quindi, anche lì, tutto va visto con il giusto senso logico, ok? Questo è importante da sottolineare. Quindi, sì, ok, il pomodoro non è propriamente una verdura, però si può mangiare, ok? Si può mangiare con la logica di dire non me ne mangio una tonnellata. Quello che non è verdura sono le patate. C'è chi mi dice, ragazzi, ma posso mangiare le patate? No, le patate, che sia dolci, che siano quelle a pasta bianca, qualsiasi tipologia di patata, non è da considerarsi una verdura, ok? Le verdure neani massima sono quelle verdi. Anche lì, nella scelta delle verdure, alcune di voi possano avere delle limitazioni, ok? La verdura a foglia larga può causare dei problemi digestivi su alcuni soggetti, su altri no, ma su alcuni magari sì. Io, per esempio, le mie verdure preferite sono zucchine e ad asparagi, ad esempio, però in linea di massima io mangio qualsiasi tipologia di verdura. Quanto è importante valutare la quantità di verdura introdotta durante l'arco della giornata? Dal punto di vista calorico non è così importante, perché, come ho detto ad inizio del video, la verdura come la frutta ha una densità calorica relativamente bassa, quindi il quantitativo di verdura è abbastanza trascurabile. Però un eccesso di verdura vi può portare a gonfiore addominale. E questo è un aspetto che non va troppo sottovalutato, uno dei motivi per cui indico sempre orientativamente una quantità di verdura medio-bassa non è, ragazzi, perché non mi voglio far mangiare, ma perché io, siccome ci sono passato, delle volte presi dalla fuga e proprio come, diciamo, contraccolpo psicologico, ci viene da ingozzarsi di verdura, perché pensiamo che non stiamo mangiando abbastanza. Oddio, sono in deficit calorico, oddio, mangio poco, poi magari in realtà non è così. Allora cosa faccio? Mi attacca la verdura. Attenzione a fare questo, perché se mangiate veramente troppo verdura, 6-700 grammi, un chilo di verdura, vi viene una panza incredibile, ok? E questa sensazione di gonfiore, poi, si può portare per tante ore, giorno dopo giorno, mese dopo mese, vi ritrovate con una bella dilatazione addominale. E questo non ve lo consiglio affatto. Quindi, cerchiamo di mantenere dosaggi di verdura umani. Io spesso consiglio 100 grammi. 100 grammi sono fin troppo pochi, lo riconosco che sono pochi. Io, per esempio, quando gareggiavo e ci avevo tutto pesato al millesimo, io ne mangiavo 100 grammi. Cioè, ogni mio pasto completo comprendeva la mia quota, la mia fonte proteica, la mia fonte di carboidrati, e, per quanto riguarda la verdura, anche quella era pesata, erano 100 grammi, ok? Quindi, 100 grammi ogni pasto. Però, si può stare tranquillamente anche a 200, ma a 250. Evitate di mangiarvi delle scofanate di verdure, perché poi, soprattutto, voi donne, vi ritrovate con l'addome dilatato. E non è quello che volete, perché molto spesso combattiamo per migliorare il punto vita, poi, invece, proprio in risposta la convinzione psicologica che siamo in deficit e che stiamo mangiando poco, ci andiamo a ingozzare di insalata, ne mangiamo una sbalangata, ci andiamo a ingozzare di spinaci, rape, cavolfiore e quant'altro, e poi ci gonfia la pancia. Quindi, questo è un aspetto da sottolineare, ok? A conclusione, cosa diciamo? Che sono due alimenti che non possono assolutamente mancare nel contesto della vostra alimentazione. Sui frutti si può stare tranquillamente su due, tre frutti al giorno, tra l'altro, se vengono assunti negli spuntini, possono sostituire i classici snack confezionati e si trasporta bene, quindi, anche se siete incasinati per il lavoro, ve lo mettete in borsa, ve lo mettete ovunque, ve lo portate dietro, si trasporta più che bene, si consuma rapidamente ed è, rappresenta un ottimo spuntino, ok? Per quanto riguarda la verdura, anche la verdura, non fatevela mai mancare, non state troppo attenti alla tipologia di verdura, a meno che non ci siano situazioni particolari che alcune non le potete mangiare perché non le digerite, ok? Quindi, ognuno ha, chiaramente, il suo caso specifico, però, in linea di massima, salvo problematiche particolari, non state troppo a valutare il fatto se quel tipo di verdura è più zuccherina o meno perché è irrilevante o nella stragrande maggioranza dei casi è irrilevante, ma mangiate la verdura, stando attenti appunto a non ingolfarvi troppo perché rischiate il gonfiore addominale.